Dio, siamo qua al mercato, porte e nonne, stiamo predicando la parola di Dio, alleluia, Signore benedice, tu sei, Padre, gloria a Dio, alleluia, santo, 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 gloria a Dio, gloria a Dio, shabba, kandara, basho, kandara, bashe, alleluia, c'è pieno il mercato, pieno, pieno, gloria a Dio, anche c'è la, anche c'è qua la politica, ma siamo qua a divulgare la parola di Dio, alleluia, Gesù Cristo che è la via, alleluia, gloria a Dio, santo nome, Gesù, gloria a Dio, santo, santo, re da gloria, santo, santo, alleluia, c'è qualcosa di straordinario, c'è una, una, c'è una statistica dove le donne friulane sono quelle che bevono di più, sapete quante persone sono alcolizzate di donne friulane e sapete perché bevono? Perché sono disperate, perché magari hanno messo nel marito quello che aspettavano, ma quel marito le ha deluse e c'è un solo marito che non ti deluderà mai, Cristo che è lo sposo vero, alleluia, gloria a Dio, santo Dio della gloria, non perché piace l'anni, ma perché in quel modo, c'è per non di affogare i problemi, ma non è affogare i problemi, ma non è affogare i problemi, Cristo è l'unico per risolvere i problemi, non per affogarli, gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia,